come diceva il mio grande amico dan peterson i know my chickens conosco i miei pulli si dice anche in italiano e prevedevo che dopo la grande partita col napoli dopo poco più di 48 ore l'inter insomma ad empoli faticasse ad ingranare partita complicata ma lo sapevamo perché i nostri ragazzi hanno continuamente bisogno di motivazioni e per questo dico che siamo una squadra in piena corsa per il terzo posto giriamo con questa vittoria ad empoli gol di keita un tiro un po sporco spettinato ma comunque data dentro giriamo a 39 punti la cosa più importante che ne abbiamo sette sulla lazio che attualmente è quarta direi anche metà dello scontro diretto visto che abbiamo vinto la 3 a 0 e da considerare a nostro vantaggio poi bisognerà vedere il ritorno attenzione al grande ritorno della roma anche questo lo prevedevo sapete la mia classifica finale juventus napoli inter roma diciamo che siamo pienamente in corsa la partita non è stata esaltante mi è piaciuto molto il dopo partita quando spalletti ha detto la grande verità che al momento na in golan scelta condivisa è non voluto solo da lui mette almeno 3 4 cose davanti al calcio pensate io ne metto addirittura 10 il problema è che io non gioco a pallone non guadagno milioni di euro e non faccio questa professione quindi sarà il caso insomma che na in golan e speriamo che le parole di spalletti gli servano per il girone di ritorno proprio per fargli venire fuori un po di reazione i torni a fare il professionista perché oggi poi quando è entrato comunque qualcosina ha fatto anche se non è stata una partita straordinaria ripeto l'abbiamo portato a casa siamo in piena proiezione terzo posto che secondo me è l'obiettivo finale adesso vedremo nel girone di ritorno se arriverà qualcosa un filino di cosine sul mercato per il resto magari ci vediamo dopo domani perché voglio farvi un video editoriale di grandi auguri tifosi interisti raccontare un po tutte le scemate che ho sentito quest'anno tipo ronaldo in italia non si troverà bene farà fatica a segnare oppure chi era l'anti juve a secondo di quello che succedeva ogni domenica adesso godiamoci questo risultato questa è la posizione classifica dell'inter se non spendi soldini di più non puoi avere questo ve lo dico da tempo e soprattutto se non tiene un allenatore per tre anni un bacione a tutti dai dopo domani ci risentiamo ancora ma intanto forza inter ciao